Ola, pessoal! Ciao a tutti! Come va? Tutto bene? Come già ho detto, studio italiano e mi è piaciuto tantissimo aver imparato sulle regioni, provinci, comuni, insomma, sull'area geografica dell'Italia. E oggi faccio un breve riassunto dell'area geografica brasiliana, del Brasile. Una cosa più importante che vorrei dire. Il Brasile non è solo Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. No! Il Brasile è il quinto paese al mondo per estensioni territoriale. Il Brasile occupa un'area di 8.547.403 km² sul pianeta Terra. L'area dell'Italia è 301.338 km². La popolazione brasiliana è stimata 211.800.000 abitanti in 5.570 comuni, cidades. E una cosa curiosa è che in Italia sono più o meno 60 milioni di abitanti e ci sono 7.996 comuni. Il nostro paese, il Brasile, è più grande che in Italia, ma ci sono meno comuni, meno città che in Italia. Le aree geografiche brasiliane sono il nord, il nord-est, il centro-vest, il sud-est e il sud. Ci sono 26 stati e un distretto federale. In Italia si dice regioni. In Italia si dice regioni e ci sono 20 regioni in Italia. E in Brasile chiamamo di estato, stati, estados. Il sud-est compreende il rio grande del sud, dove vivo, Santa Catarina e Paranà. Il sud-est compreende São Paulo, Rio de Janeiro, l'Espirito Santo e Minas Gerais. Il centro compreende le regioni di Goiás, distretto federale, quello piccolo, Mato Grosso, Mato Grosso del Sud. Il nord compreende il state di Acre, Amazonas, Amapà, Parà, Rondonia, Roraima e Tocantins. Quelle del nord-est è Bahia, Piauì, Maranhão, Ceará, Rio Grande del nord, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Per avere una idea delle dimensioni del territorio brasiliano, il Regno Unito sarebbe adatto solo all'interno di São Paulo e Bahia è solo un po' più piccola della Francia. Vediamo una mappa e guarda le dimensioni tra degli stati brasiliani e di alcuni paesi del mondo. Adesso ti faccio una domanda. Qual è la capitale, il capologo del Brasile? Dimmi. Hai detto Rio de Janeiro, São Paulo? La capitale, il capologo federale del Brasile è Brasilia e non Rio de Janeiro o São Paulo come tante persone pensano. E è anche la sede del governo del distrito federale, distrito federal, è onde fica Brasile. Il territorio brasiliano, grazie alla sua posizione e grande estensione, presenta diversi tipi di clima. I principali sono equatoriali, tropicali, semi-arido, tropicali di altitudine, atlantico e subtropicali. Circa il 90% del paese si trova tra i tropici del cancro e del capricorno. Per questo è chiamato paese tropicale. Il clima equatoriale predomina nell'estate di Parà, Amazonas, Rondonia, Amapá, Roraima, oveste del Maranhão e parte del Tocantins e Mato Grosso, regioni vicini al Equatore. Il clima è caldo e umido, con alte temperature e grande quantità di pioggia. Le stagioni non sono precise, in quanto le tassi di temperatura sono elevati tutto l'anno. Nel nord-est ci sono tre tipi di clima, tropicali al mare, buonissimo, mi piace tantissimo, non fa freddo, ma in centro del nord-est il clima è semi-arido, la temperatura è elevata e piove molto poco, è secco. Nella regioni centro-vest e sud-est il clima è tropicale, offre solo due stagioni, inverno caldo e secco e l'estate piove, piovosa e calda. Qui nella regione del sud, dove vivo, il clima è subtropicale, ha due stagioni definiti, l'estate è caldo e nell'inverno fa freddo, con gelo e possibilità di neve cari. In Brasile ogni regione è differente d'altra, esistono una grande varietà territoriali, culturali, gastronomiche, linguistiche, musicali, di mentalità, cambia anche le caratteristiche fisiche. È diverso andare da una parte all'altra, ma vedremo sulla diversità del Brasile in un prossimo video. Spero che questo video ti sia piaciuto e che lo hai aiutato a comprendere un po' di più di questo grande paese. A me è stato un ottimo esercizio per praticare l'italiano. Ci vediamo al prossimo video. Até mais! Ciao! 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 Grazie per la visione!